di dove siete? Reggio Emilia. Perché avete scelto Arezzo? Perché dobbiamo fare un giro, vedere il santuario di Laverna e Camadoli. Quindi luoghi sani? Sì. Come mai questa scelta? Prima di morire bisogna vedere questo. Arezzo la prima volta? Sì, la prima volta. Da dove viene? Da Parma. Come mai ha scelto proprio questa città della Toscana? Così, ma io volevo andare a vedere le opere di Piero della Francesca e quindi qui faccio base e poi faccio un giretto. Piero della Francesca e i luoghi santi sono questi due motivi principali per cui i turisti a Pasqua scelgono Arezzo, ma c'è anche chi la deve spuntare tra le città toscane ancora da visitare. Ci mancava delle città toscane, sapevo che è bella, per cui siamo appena arrivati e adesso la visitiamo. E per tutti coloro che sceglieranno Arezzo per questo weekend pasquale, una piccola sorpresa nel Palazzo di Fraternita. Il Palazzo di Fraternita è un bene culturale di Arezzo e di tutti coloro che verranno nella nostra città. Il Palazzo è aperto il giorno di Pasqua e il giorno di Pasquetto dalle ore 10.30 alle 18.00. E tutti coloro che entreranno nel Palazzo, prima di apprezzare le opere d'arte, saranno accolte da un'offerta di vino passito, l'ultimo nato nelle proprietà terriere della Fraternita, accanto al cioccolato. Due eccellenze aretine che accettano tutti coloro che vogliono vivere due giornate di arte e anche di recupero di pensiero e di meditazione. La Pasqua è una festa religiosa, però può essere vissuta anche attraverso l'arte, perché l'arte affina lo spirito.